Faccio l'inspirational speaker, la talk show host. Sostanzialmente ho inventato un progetto che si prefigge lo scopo di ispirare le persone a essere felici. In che modo? Scoprendo quale sia la loro vera natura, la loro autentica natura. Al di là quindi di pregiudizi, di schemi, paradigmi, informazioni che sono state apprese nel corso della vita tramite la famiglia, la scuola, i media, la società in generale. Quindi l'obiettivo è essere felici come? Ritrovando la propria autenticità e trovando soprattutto lo scopo per cui siamo qui. Essere una donna significa riappropriarsi della nostra vera natura e quindi essere accoglienti, ricettive, empatiche, generose. Generiamo vita dopo tutto e quindi la vita può essere generata in molti modi possibili. Non c'è solo il figlio, possiamo essere mamme di progetti per esempio o di soluzioni che possano servire così a risolvere i problemi dell'umanità.